Tra i miei fiori di borragine si aggira un'ape, ghiotta del nettere, si nutre da fiore in fiore, ed io la osservo attentamente. Ops, vola via! Ma eccola a ritornare, e nuovamente succhiare il nettere dei fiori di borragine. Sembra scelga il fiore, da cui nutrirsi. Allora mi sono detta, se le api si nutrono di questi fiori, possiamo farlo anche noi? Raccogliamoli tutti. E naturalmente assaggiamoli. Sono buonissimi. Hanno il sapore di cecchiolo. Stasera ci facciamo una bella insalata. Grazie, ape! Mi ha insegnato a gustare i fiori di borragine, arricchendo la mia semplice cucina contadina.